buongiorno a tutti amici di youtube oggi 7 settembre 2020 finalmente sono riuscito a incontrare lo youtubeista aldo sulle vie del sentiero ciclabile della vassassina mi ha fatto molto piacere e spero di incontrarlo ancora ciao un incontro non specifico perché al momento il mio amico non l'avevo conosciuto dopo chiacchierando ho rinforzato tutte le idee e mi sono realmente visto concretamente che era il sottoscritto di nome sandro che ci comunichiamo più da un anno e ho avuto piacere e gentilmente mi ha accompagnato alla fermata del bus dove questo bus mi porta a letto e spero di ritornare in valsassina ciao a tutti bravo aldo